Continuiamo a dipingere ad acquarello con una cartolina dalla Toscana. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Nuovo video del corso di acquarello. Oggi impareremo a costruire un dipinto d'acquarello usando una sola tecnica. In questo caso useremo la tecnica della sfumatura da bagnato su asciutto. Vedrete e andremo anche naturalmente per sovrapposizioni tonali. Adesso spostiamoci di là e andiamo a vedere come creare un nostro paesaggio toscano. Oggi utilizzeremo la tecnica della sfumatura da bagnato su asciutto. Se non l'avete visto andatela a guardare prima di fare questo esercizio. Cosa ci occorrerà? Oggi faremo un paesaggio toscano. Quindi un bicchiere con dell'acqua, una matita, un foglio ben assicurato alla tavoletta, dei pennelli, io qui ho i tintoretto e gli easy, proprio per farvi vedere come pennelli di gamme e di qualità differenti possano ben coesistere. Poi la carta che sto usando è una tintoretto ferrario. Invece delle pezzuole ho i tovaglioli di carta, colori della ferrario godè, una tavolozza dove stemperare naturalmente i colori. Cominciamo subito. La matita ci servirà innanzitutto per creare una composizione di paesaggio toscano e caratterizzata di solito da una serie di piani successivi in cui si intervallano colline che sono distanziate dalla prospettiva aerea, la famosa prospettiva lenardiana che è data dalla foschia tipica di quei colli. E naturalmente dagli mancabili cipressi. Cominciamo subito e useremo i colori della terra. Variamo non più azzurri ma colori della terra. E ovviamente queste linee vanno date con una matita molto molto scarica. Vedete? Una serie di piani continui le nostre colline. Ancora ci manteniamo sui soggetti abbastanza semplici ma ad effetto in modo che se ci facciamo un viaggetto invece di spendere soldi per il regalo o limitarci a delle fotografie possiamo fare nostro il paesaggio fermandoci un attimo, guardandoci intorno e riproponendolo su un dipinto. Prepariamo innanzitutto il primo colore. Io andrò da un giallo verso una gradazione sempre più via via a terrosa fino ai verdi. Quindi come prima cosa con un pennello più scarso, questo della Easy andrà più che bene, prelevo il colore dei miei godè. Prendo dell'ocra e un po' di rosso lacca a creare un arancio tramonto molto delicato. Con un pennello in martola sintetica ben bagnato a fare il primo passaggio. Vi ricordate? Allora si dava la prima passata, si bagnava bene il pennello quindi dal basso verso l'alto ci si congiungeva dal basso verso l'alto e si tornava poi un po' giù. In modo da creare questa sorta di sfumatura, incliniamo, da creare questa sorta di sfumatura naturale e credo la parte più carica vada verso la parte meno carica del disegno. e lasciamo asciugare. Procediamo con un colore che vada ad intensificarsi nel rosso e che contenga ancora un po' di giallo ma che nello stesso tempo sia molto molto delicato. Quindi questa adesso vedrete formarla, questa montagnola qua e anche qui dal basso tiriamo giù il colore. Visto? Se vogliamo dare un po' di giallo alla stessa maniera, poi dal basso tiriamo giù il colore. Prendo un po' di terra ombra naturale e lo inserisco nel colore a renderlo un po' più scuro e ripasso su quello che voglio sia il margine. Quindi sempre col pennello bagnato, dal basso verso l'alto, diluisco. In modo da far scomparire quasi la linea. E lascio asciugare. A questo colore aggiungiamo una leggera punta di verde prato. partiamo a dare anche qui dal basso verso l'alto, bagno, dal basso verso l'alto, bagno, dal basso verso l'alto, bagno, tutto. Ovviamente, se cominciano le particolareggiature, le faremo in un secondo momento, tipo qui le particolareggiature degli alberi, qui diamo solo un'orma per movimentare leggermente il panorama, insomma, per non fare solamente delle linee dritte l'una sull'altra. Intensifichiamo maggiormente dei colori della terra, quindi aggiungiamo del terraombra al giallo, alla misticanza di prima di colori, vedete? Aggiungiamo un altro passaggio. E anche qui sciacquiamo poi il pennello e dal basso tiriamo giù la sfumatura. dal basso ci congiungiamo all'alto. E anche qui se c'è da aggiungere qualche particolareggiatura aggiungiamola. Se vogliamo fare cadere una zona, invece, totalmente in foschia, senza colore, semplicemente con l'acqua, saliamo verso la parte dipinta e congiungiamone. e poi con la pezzuola e poi con la pezzuola voilà sporchiamo il tutto. Man mano riprendiamo le cose che vogliamo riprendere, quindi magari delle particolareggiature di alcuni casali che possano esserci degli alberi dei movimenti che poi naturalmente vadano a perdersi in quella che abbiamo detto vogliamo sia la zona più degradata. E anche qui dal basso verso l'alto dal basso verso l'alto voilà facciamo tutta la nostra sfumatura torniamo un attimo indietro con un po' di rosso perché nel frattempo dobbiamo sempre aggiustare quello che abbiamo precedentemente fatto e vedete qui quanto poco sia certo tutto questo? ripassiamo ora che la parte inferiore è più scura è sempre dal basso verso l'alto riprendiamo i toni e scendiamoli. Altro giro altra corsa terra di siena terra ombra naturale ci stiamo avvicinando sempre più al primo piano quindi i colori della terra devono prendere sempre più per sopravvento miscelato sempre con l'ocra giallo e il giallo e le varie con un punto di lacca di chiarenza chiarissimo chiaro non chiarissimo intendo molto diluito ok e diamo quello che è un passaggio che poi anche qui con il pennello bagnato diluiremo passate una volta sola e lasciate andare ovviamente salite quelle che sono le particolareggiature ci sono dei cipressi se qua ci sono dei cespugli per congiungere questa parte a quella superiore lo sapete già solo dell'acqua e sporcate leggermente il pennello del colore che avete usato per fare la sezione precedente così visto quindi rinforzate la sezione precedente e scendete la sfumatura inclinate leggermente la tavoletta in modo che poi l'acqua tiri verso il basso tutto e sistemate ovviamente le scolature mentre si formano col pennello in giro verso di voi cioè io sto dipingendo al contrario quindi queste scolature che vengono a formarsi date una sorta di senso aggraziato quindi create cespugli alberi qua stiamo andando a fantasia stiamo scendendo ancora più terra e ancora più erba quindi terra di siena terra ombra naturale sicuramente sì un bel verde scuro sicuramente sì non vi dico i colori perché i colori potete combinarveli da voi e sempre l'ocra giallo in un divinto specie di questo genere non ci sono colori giusti e colori sbagliati ok diluiamo bene e creiamo il nostro step successivo che è così e sempre dal basso tiriamo la sfumatura ok e lasciamo asciugare anche questo piccolo settore ora qui dovrà salire la collina in primo piano ancora verde poggio diciamo così collinare ok anche qui diamo la striscia poi col pennello pieno d'acqua tiriamo giù la sfumatura ok alleggeriamola per bene quindi tiriamo giù bene l'eccesso di colore perché il tutto debba rimanere sempre molto molto delicato foschia insinuata piani definiti cominciano le particolareggiature pennello più sottile sempre toni molto gravi della terra cominciamo a aggiungere quelli che sono gli elementi appunto distintivi allo stesso modo definiamo gli altri campi quindi riprendiamo i colori che abbiamo utilizzato per crearli e forziamo diciamo così l'accento e continuate sempre qualunque particolare giatura aggiungerete a tirarle in basso con la tecnica che vi ho insegnato quindi mano mano andate a definire tutte le parti superiori e comunque diluitele verso il basso in maniera tale che rimanga questa sorta per il sospeso asciughiamo bene particolareggiamo tutto quello che vogliamo particolareggiare a questo punto quindi aggiungiamo frasche cespugli insomma quello che volete e adesso per tingere tutto delle tinte arancioni del tramonto prendo proprio un arancio lo diluisco molto se non lo avete lo potete creare voi ma molto diluito e velocemente passo su tutto e il nostro tramonto toscano tra foschie e cipressi è finito fermiamoci qua come esercizio può andare più che bene adesso aspetto che si asciughi lo stacco sta arrivando il nano quindi devo correre e noi vi lascio le foto e ci vediamo dopo visto che è facile alla fine creare un qualcosa di armonico e composito usando poche tinte e soprattutto usando una semplice tecnica quindi mano a mano nell'acquisizione delle tecniche vi sto fornendo il modo per allenarvi a sviluppare l'una piuttosto che l'altra perché adesso dobbiamo scendere in campo dobbiamo prendere il pennello e applicare quello che abbiamo visto nei quadratini delle nostre esercitazioni ho scelto come light motive del corso di acquarello le cartoline e quindi ditemi quali saranno i paesaggi che più in là potrete vedere i posti le zone ho scelto da prima l'Etna perché era il punto di partenza adesso la Toscana perché è il momento in cui ho girato la parte pratica del video Gabriele era in Toscana ora gireremo prima l'Italia l'Europa il mondo e quindi le cartoline acquarellate di arte per te potranno arrivare veramente ovunque credo che sia un'idea carina anche perché da una diversità di soggetti e perché una cartolina da un paese può rappresentare una veduta ma può rappresentare anche dei soggetti o dei particolari che caratterizzano quel posto quindi mi sembrava un'idea bellina per dare un senso di unità a tutto il corso spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia utile se è così regalatemi un bel pollice in su tutto quanto acquarellato e condividete il video sulle vostre pagine facebook dopodiché vi aspetto sempre su tutti i miei social su 2quare 1k dove parleremo di cucina sul mio nuovo canale ombretta dove parleremo di frivolezze e soprattutto vi aspetto sulle pagine facebook di arte per te di cui vi lascio il link qua sotto nel box informazioni non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video da ombrette d'arte per te è tutto arrivederci un bacio a tutti e grazie di essere sempre con me grazie